Istituita 40 anni fa, la fortuna d'oro ha lo scopo di esprimere pubblicamente la riconoscenza dell'intera comunità fanese alle cittadine e ai cittadini che si sono distinti nei settori legati alla cultura, alla scienza, allo sport e al sociale. Il premio è stato riproposto anche quest'anno dal sindaco Seri e dalla presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli che vogliono valorizzare il senso di appartenenza alla città. Questa edizione, dopo l'ultima del 2019, attribuirà due riconoscimenti per il merito e l'impegno ad altrettante personalità di spicco. Le tradizioni e le radici, ha commentato Cecchetelli, ci indicano la strada verso il futuro. Pubblicheremo nel sito del Comune di Fano una modulistica dove ognuno può proporre il nominativo di queste persone che ritengono più meritevoli per la città e per il loro curriculum professionale che hanno della persona. Gli anni che sono proposti è l'anno 2020-2021 in quanto siamo stati fermi un paio d'anni per la pandemia. Questo modulo viene scaricato nel sito internet ed è valevole per l'anno 2020-2021. Questa domanda deve essere consegnata via mail dove c'è scritto l'indirizzo alla Presidenza del Consiglio oppure portata via mail in brevi mano alla segreteria. La scadenza abbiamo dato il 30 novembre perché dopo di che chi esaminerà queste domande sarà una commissione che è formata da componenti di diritto del Comune e delle componenti nominate dal Consiglio Comunale. La previsione è di consegnare questo premio che si tratta di una medaglia d'oro rappresentante allo stemma della fortuna d'oro e intendimento di concludere nel periodo di gennaio 2023. La cerimonia poi si svolgerà a teatro. Nelle passate edizioni il premio La Fortuna d'oro ha visto la città di Fano stringersi con stima e riconoscenza. Attorno a figure come lo scrittore Fabio Tombari, il giornalista Valerio Volpini, il regista Leandro Castellani, la manager sportiva Paola Porfiri e ancora il missionario Don Paolo Tonucci, il giovane medico e ricercatore Filippo Fortuna e il fondatore dell'Africa Chiama Italo Nannini, il professore Alberto Berardi e tanti altri. Avere un premio è importante. Tutte le città che si dicono tali lo hanno perché riconoscere meriti e valorizzare e premiare quei concittadini che perché sono nati qua o che vivono qua, che hanno fatto cose importanti, hanno dato lustro alla nostra città, hanno portato il nome di Fano attraverso l'Europa nel mondo, bisogna festeggiarli e bisogna rendergli gli onori, come faremmo in una qualsiasi famiglia quando un componente ottiene un grande risultato. In questi anni sono stati attribuiti a tante personalità e noi vogliamo continuare, per cui l'invito è quello di segnalare quelle donne e quegli uomini che attraverso la loro opera nel mondo della scienza, dell'educazione, della solidarietà, della diplomazia, dello sport, insomma in tutte quelle discipline dove si sono fatte cose importanti.